panorama luco de marci vista a quota mille metri allora qua mi trovo sopra le campane ecco queste sono le campane vedi e questa è la piazza senti che bella musica adesso si vede meglio così ascoltiamo la musica la sotto la variante piena di auto porteggiato stanno facendo la premiazione c'è molta un'acquenza di pubblico numerosa una bellissima giornata serena ecco dove mi trovo io adesso pian piano spiegano i numerosi carri peggio è una giornata splendida serena ammiriamo il meraviglioso panorama altipiene per cui ci vabbè soffermiamoci sul carnevale ringraziamo gli organizzatori che copriano arrivano il carriano Grazie a tutti.